Uno per l'aperitivo, uno per le vacanze, uno per la pensione, uno per l'aperitivo, uno per le vacanze e uno... Ma spero come che era? Vedo che hai appena rapinato il piattino delle offerte. No, Michè, l'ho visto fare uno su TikTok, si chiama Risparmio Consapevole. Oh, è così che si è comprato la sua Lamborghini Diablo? Sì, e magari va a Dubai facendo trading. Dai, butta via tutto che te lo do io il consiglio giusto. Oggi ti porto in banca malatestiana, così finalmente anche tu apri un pack. Che pacco apro? Ma quale pacco? Pack! Piano di accumulo capitale, è uno strumento di investimento con cui puoi risparmiare in maniera graduale. Cioè il versamento mensile lo decidi tu, e poi praticamente fanno tutto loro. Così puoi creare il tuo capitale utile per spese future. Ecco il conto. Bravo, Michè, accumula, accumula. Bisogna sempre pensare ai spese future. Il capitale utile. Ciao, ciao. 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 Ciao.